Ormai ho perso il conto di quante ne ho piantate, ma credo di essere vicino al traguardo. Da genitori gialli e lisci, figli verdi e rugosi. Eh sì, non c'è alcun dubbio, i verdi e i rugosi sono recessivi, mentre i gialli lisci dominanti. Vent'anni di ricerche hanno dato i loro frutti. Ragazzi, oggi voglio raccontarvi la storia di un uomo che aveva la passione per i piselli. Buoni, piacciono anche a me. Non parlo di un mangione come te, ma del padre della genetica, voglio sottoporvi un indovinello. Ascoltatemi bene, ormai sono quasi sei miliardi, sono simili, eppure tanto diversi tra di loro. Che cosa sono? I granelli di sabbia. I pisellini, sono i pisellini. Potrebbero essere le foglie degli alberi. Io dico gli uomini. Esatto, gli uomini. Sei miliardi, così tanti. Uno, due, tre, quattro. Avete idea quanto tempo ci vorrebbe per contare fino a sei miliardi? Secondo me mesi, o forse anni. Duecento anni. E perché diceva che siamo simili eppure diversi? Siamo simili perché facciamo parte della specie umana e siamo diversi perché nessuno è uguale all'altro. Ci sono gli uomini, le donne, i bambini, le bambine, gli alti, i bassi, i neri, i bianchi, i gialli. E i forti e gli astuti. Scusi maestro, come mai siamo tanto diversi l'uno dall'altro? E perché ci sono tanti animali diversi? E piante diverse. Si tratta di uno dei secreti della natura che solo ora cominciamo a svelare. Bene, vi ricordate del signor Darwin? Sì, è la sua teoria dell'evoluzione. Sì, aveva una barba lunga quasi come... come... Dillo pure, come me. Ha dimostrato che l'uomo discende da un tipo di scimmia. Ma rispetto a loro noi siamo evoluti, molto evoluti. Vero che siamo evoluti? Oh sì, sì, altro che sì. Darwin ha provato che tutti gli esseri viventi cambiano, ma questo in che modo avviene? Adattandosi. Sì, vi ricordate? Darwin notò che alcuni fringuelli avevano il becco sottile perché si nutrivano di foglie, mentre quelli che si cibavano di noce avevano un becco robusto. I fringuelli sono diversi già dalla nascita, ma perché? Fattori ereditari, eh? Esattamente. Tramite le uova i fringuelli trasmettono i loro geni alla loro prova. Questo concetto è complicato, cosa sono i geni? Beh, io non ne ho di sicuro. Già, anch'io sono senza geni. Ma sì che avete i geni, gli uccelli, gli animali, tutti gli esseri viventi hanno i geni. E chi è che l'ha scoperto? Un uomo tranquillo e geniale che coltivava dei semplici piselli. Siamo in Moravia, nel cuore dell'Europa, nel diciannovesimo secolo. Ora guarda bene, figliolo, innesterò questo ramoscello su di un velo. E come si fa? Osserva. Vero, ha del talento questo ragazzo. Dimmi, papà, com'è possibile che un albero faccia dei frutti così diversi? Gliolo, questo è uno dei misteri della natura. Dammi una mano, per favore. Ehi, tu. Oh, buongiorno, signor padrone. L'accordo è che dovete lavorare per me tre giorni alla settimana. Seguitemi. Sì, signore, finiamo qui e poi... Niente storie, io ho bisogno di voi subito. È proprio bello quel montone. Sì, è vero, è il migliore dell'allevamento. Voglio vederlo da vicino. Ehi, Mendel, se mi dai questo montone ti abbuano sei mesi di lavoro. Oh, bello, chiedo scusa, ma è il risultato di numerosi anni di selezioni, non posso separarmene. Ma io lo voglio. Papà, come sei riuscito ad ottenere un montone così bello? Bisogna selezionare i migliori esemplari. Una petula con una bella lana e un montone con le zampe dritte trasmettono queste qualità ai loro piccoli ed è così che a poco a poco... Ma come funziona? Oh, non chiedermelo, figliolo, non saprei cosa risponderti. Il pistillo è fecondato dal polline che si posa qui e darà un seme. Come si spiega che il pistillo e il polline creino un seme che darà vita a un fiore e non ad un'altra cosa? Beh, questo figliolo non si sa con esattezza. Nostro figlio è bravo a scuola, dovrebbe continuare a studiare, ma purtroppo non abbiamo i soldi. Ecco. Ehi, ma lo vedi quello straccione? Ha un buco nei calzini. Non hai soldi per comprarsene di nuovi. Ma che cosa ci fa un contadino a scuola? È un ignorante. Ehi, voi. Che io. Dice a me? Sì, dico a voi. Il fatto che non abbiate buco nei calzini non vi rende più intelligenti. Su, sentiamo. Cosa ci vuole perché una pianta da fiore produca un seme? Beh, basta a scuoterla. E lì, in autunno, in autunno. Ah, in autunno, bisogna scuoterla in autunno. Siete due ignoranti. Mettetevi seduti, Mendel, sai darmi la risposta? Il polline deve penetrare nel pistillo, signore. E da dove arriva il polline? Dalla stessa pianta o da un'altra. Se proviene da un'altra varietà, il seme produrrà un ibrido. Molto bene, Mendel. In quanto a voi, nonostante i vostri calzini di seta, avete molto da imparare da Mendel. Per oggi è tutto, potete andare. Ah, quanto vorrei dargli una lezione. Noi non abbiamo niente da imparare da un contadino. Ehi tu, ehi. Hai paura, eh, fifone? Guardalo, non ha nemmeno il coraggio di voltarsi. Tocca a me, tocca a me, tocca a me tiragli i sassi. Tornateli in mezzo ai maiali. Ad occuparti delle oche. E anche delle pecore. Ma guarda com'è vestito, ancora la giacca di quale era piccola. L'ogora è rammentata. Sì, è vero, i calzini bucati. E la mia giacca è troppo piccola e logora. Mentre voi avete dei bei vestiti, ma... posso pur sempre darvi una piccola lezione. Bella la mia giacca, eh? La mia è nuovissima, Adriana di Scazia. Ebbene, fra un attimo avrete vestiti come i miei. La mia giacca rovinata. Mi si sono bucati i calzini. La mia camicia, guarda come mi ha ridotto la camicia. E se non la smetterete, sarò costretto a darvi una grossa lezione. Salve, vorrei del pane e tre carote. Anzi no, due carote. Vieni un attimo nel mio ufficio, figliolo. Tieni, mangia e... Oh, ma professore! No, avanti, non fare complimenti. So bene che non hai molti soldi. Ma alla tua età, se non mangi la sufficienza, rischi di ammalarti. Tu non vuoi abbandonare gli studi, vero? Beh, avrei una soluzione. Recati a mio nome al convento degli Agostignani di Brno. Questo è il refettorio dove consumiamo i pasti. Grazie a Dio qui da noi il cibo non manca. Quello è fratello Mattia, il nostro botanico. E' lui che si occupa del giardino. Dà pure un'occhiata in giro. Sono sicuro che andrete d'accordo. Tu sei veramente un appassionato di botanica, figliolo? Certo, padre. Sono un contadino, figlio di contadini e studio scienze naturali. Finalmente c'è qualcuno con cui potrò parlare delle mie piante. Avvicinati, ho diverse varietà di fagioli e di piselli. Sono molto interessanti, sai? E questa è la nostra cappella dove ci riuniamo a pregare. Madre natura vuole che quando le piante e gli animali si riproducono diano vita dei discendenti simili a loro. Eppure non sempre è così. Come sarebbe a dire, padre? Ti darò un piccolo esempio. Supponiamo che questi piselli si riproducano. Facciamo finta che le cose avvengano come tra un uomo e una donna o anche tra un esemplare maschio e una femmina del regno animale. C'è un periodo di corteggiamento durante il quale si approfondisce la conoscenza. Dopodiché c'è l'innamoramento e infine ci si sposa. Quale coronamento migliore se non quello di riprodursi? Abbiamo fatto proprio dei bei bambini. Ti somigliano moltissimo, tesoro. Poi i bambini crescono e a loro volta si corteggiano, si innamorano e si sposano. E come è successo ai loro genitori si riproducono e mettono al mondo dei piccoli. Come sono belli i nostri figli. E guarda come ti somigliano questi tre. Sì, ma questo qui invece non mi assomiglia affatto. Forse no, però il risultato della mia mamma non trovi. Sì, è vero. Ed è lo stesso per gli esseri umani. Perché i bambini assomigliano al padre o alla madre? E a volte a tutti e due, lo sapete? È un bel mistero. Perché i pisellini, pur essendo tutti gialli, danno vita a dei pisellini verdi? E poi ho notato anche altri fatti inspiegabili. A mio avviso bisognerebbe fare un esperimento, che probabilmente durerà molto tempo. È ora di pranzo, vieni, dobbiamo recarci al refettorio. Benedici, signore. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, no, per me stai. Che buona idea, i crauti, che profumino. Poi ci sono le patate, le parole. Davvero buoni gli ortaggi coltivati da padre Mattia. Beata gioventù, come l'invidio. Dimmi, che cosa stai piantando? Dei piselli, padre. E da questa parte, e da quest'altra. Sono piselli, tutti piselli. Mangeremo piselli da qui all'eternità, figliolo. Ce ne vogliono migliaia per il mio esperimento. Le spiego, padre. Qui semino i piselli col baccello verde e laggiù quelli gialli. E poi i piselli con il fiore bianco, con il fiore rosa, con il fusto basso, con il fusto alto. Quanta energia. Presto avrai migliaia di piselli. E che cosa ci farai dopo? Intendo incrociarli, ibridarli, padre. E vedere che succede nel corso delle generazioni. Piselli stufati, zuppa di piselli, piselli bolliti, e solo un piccolo pezzetto di maiale. Ringraziamo il signore per questo nostro pane quotidiano e per i pisellini coltivati da padre Gregor. Ma quale pane? Per i nostri pisellini quotidiani. A che punto sei arrivato, figliolo? Devo continuare ad incrociarli. Inserirò il polline dei fiori rosa col baccello verde nei fiori bianchi col baccello giallo e quello delle piante... Ma no, 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 non così in fretta. Caspita, che lavoro. Sì, vedo cosa stai facendo. Anche se i miei occhi non sono più quelli di lavoro. Già, nemmeno i miei, padre. Guardi, ora porto gli occhiali. Ora prendo il polline del fiore rosa e lo metto nel pistillo del fiore bianco. Andiamo, padre, ci chiamano per la cena. Tu vai pure, figliolo. Resto qui ad ammirare il tramonto per l'ultima volta. Ma no, padre, così si prenderà un malanno. Ho avuto una vita lunga e felice. Ricordati, sarò sempre al tuo fianco. So quanto sia importante il tuo lavoro e adesso, caro... Sì, mi dica, padre. Dammi la tua benedizione. Dammi le patre, sono figli e spirito vicini. Ti ringrazio, figliolo. Ora puoi andare. No, non sa cosa c'è. No, non sa cosa c'è. Grazie. No, no, no. Ecco, io la prego di scusarmi, padre. Mi sono caduti sotto il tavolo e così mi sono abbassato per raccoglierli. Lei mi capisce, vero? Demmi, fratello, cosa abbiamo come verdura per la cena di questa sera. Ascolta, fratello Gregor, ne abbiamo abbastanza di piselli. Noi abbiamo voglia di patate. Allora piantatele, io ho da fare. Bene, molto bene. Per cominciare toglieremo un po' di piante di piselli. No, no e no. Noi vogliamo piantare le patate. Non qui, fratello, non vedi che ci sono già i piselli. Non ne possiamo più di piselli, ormai ne abbiamo fin sopra i capelli. Strapperemo tutte le piante. È fuori discussione. Stiamo conducendo un esperimento scientifico rivoluzionario. A me interessa il mio stomaco, non la scienza. Se invece vuoi piantare le tue patate laggiù, in quel campo, c'è tanto posto. Accomodati. Ma io voglio piantarle qui. Qui è tutto occupato. Ma se vuoi ti aiuto a scavalcare il muro. Eh, cosa fai? No, no. Hai bisogno anche tu di una mano per passare dall'altra parte. No. Bravo. Allora, vogliamo cominciare qui le nostre patate. Oh, il mio. Mi hai fatto un male terribile. Evviva, ho trovato, ora ne ho la certezza. Che cosa hai trovato, fratello? I caratteri delle piante vengono trasmessi da dei fattori ben distinti. Due per il colore, due per la forma e due per la dimensione. Alcuni di loro sono dominanti, è evidente. Il giallo domina, quindi è un carattere dominante. Io non ho capito molto bene cosa significa. Già, è complicato, io non ho capito niente. Non vi ricordate di Darwin, ragazzi? Nell'origine della specie ha detto che... Sappiamo poco sulla trasmissione dei caratteri ereditari. E solo qualche anno più tardi Mendel scopre le leggi sull'ereditarietà. Questo perché scopre il gene. Il gene è l'unico fondamento della genetica moderna. D'accordo, ora vi spiego. Ogni pisello ha due geni che ne determinano il colore. Uno giallo e uno verde. Ma il giallo è dominante. Se si lega a un gene verde, il giallo avrà il sopravvento. E il pisello nascerà giallo. E nella generazione seguente, guardate un po' cosa succede. Anche questa volta è il carattere giallo a dominare. Vedete qui e qui. Ma qui, miracolo, ritroviamo due geni verdi. E il colore verde che era scomparso nella seconda generazione, ecco che ricompare nella terza. Quindi è grazie alla riproduzione che mescola i geni degli ascendenti se la natura si presenta con una tale varietà di forme di vita. Ed ecco il motivo per cui i bambini hanno le caratteristiche mescolate dei loro genitori o dei loro nonni. Infatti qualcuno assomiglia al papà, qualcuno alla mamma, a volte ai nonni, spesso anche agli zii. Ci sono delle caratteristiche fisiche che a volte saltano delle generazioni per ricominciare magari nei pronipoti. Più di vent'anni di ricerche ora però posso presentare i risultati del mio lavoro alla Società dei Naturalisti di Brno. Quindi la trasmissione dei caratteri ereditari avviene nel seguente modo. i corpuscoli si uniscono secondo dei dati che si possono definire matematicamente nell'ordine e questo è il risultato delle mie ricerche. E non hanno capito un bel niente, devo farmi venire un'altra idea. Proprio così, nessuno aveva colto l'importanza del suo lavoro. Mendel era troppo avanti per i suoi tempi. Ho avuto un'idea, se è possibile selezionare e modificare le piante dovremmo riuscire a farlo anche con gli animali. Anche con le mucche? No, ci vorrebbe troppo tempo. Proverò con le api, si riproducono più rapidamente. A cosa serve quello? Ad allontanarle dal favo. Le api detestano il fumo. Posso vederlo? Anche a me piace il fumo. Che facciamo? Creeremo una nuova varietà di api che produrranno molto miele. Per cominciare... Ecco, prendo la peregina di questo sciame e la metto in un'arnia nuova con un po' di miele. Da un'altra arnia prelevo dei fuchi che metto insieme alla regina. Beh, chiaramente ci vorranno degli anni per completare il lavoro. Sì, certo. Hai visto? Queste api producono una quantità doppia di miele rispetto alle altre. Penso di essere sulla buona strada. Ok, mamma. Buono. Che c'è di buono oggi? Del maiale al miele. A quanto ne so, è una ricetta cinese. Quasi, quasi preferisco i piselli. Ce n'è? No, fratello. Mi spiace, li abbiamo terminati. E questo che cos'è? Un dolce al miele, fratello. E questo, fratello, è miele. Scusate, avete perso qualcosa? Cerchiamo un posto. Sì, per piantare... Due piante di piselli. Mi spiace, ma qui non c'è più posto. Perché non provate laggiù nel campo? Qui andrà bene. Io non ve lo consiglio. Il giardino appartiene a tutti i moni, ci dico bene? E questo è il giardino appartiene a tutti i moni, ci dico bene. Andiamo! Che fa... Aiuto, le api! Aiuto! Mendel compie degli studi sulla sciamatura delle api e sull'energia necessaria al loro volo 30.000 esperimenti nel settore dell'arboricoltura in quello della frutticoltura e anche della meteorologia ma la sua fama è legata agli esperimenti coi piselli cioè ai geni il fondamento della genetica moderna ma bisognerà aspettare ancora qualche decennio prima che i suoi risultati passati sotto silenzio ricevano il giusto riconoscimento Mendel ha elaborato questa teoria per puro caso le sue idee non hanno alcuna valenza di legge e soprattutto è una teoria che non sta in piedi il signor De Vries signori, le leggi che ci descrive Mendel trovano applicazione a tutta una serie di vegetali e ci ha spiegato che regolano anche il mondo animale e perché? Quello degli esseri umani forse no? vi ricordo che Mendel ha scoperto i geni infatti sono i geni a rendere gli esseri viventi quello che sono mosca, elefante, bambino, bambina la scoperta di Mendel apre la strada a molte altre scoperte signor Muller, le spiacerebbe catturare quella mosca per favore ma certo signor Morgan i geni sono racchiusi in quei bastoncini i cromosomi ho trovato, ho trovato ma cosa ha trovato, dottore Avery, mi dica che i geni sono composti da una lunga, la molecola e il DNA il DNA è la vita Watson, Crick, che cosa state facendo? cercavamo di ricostruire una molecola di DNA allora che cosa vede signora McClintock? sono i geni dei colori e che cos'è quello scarabocchio, dottor Ochoa? è il codice genetico che ho appena decifrato oggi sappiamo che il DNA contiene dei geni che trasmettono i caratteri e che gestisce la produzione di ciò di cui l'organismo ha bisogno e la scienza permette di modificare questi geni in laboratorio grazie alla genetica possiamo fabbricare dei nuovi farmaci per il trattamento delle malattie ereditarie per la prima volta l'uomo è in grado di controllare la sua evoluzione vuol forse dire che adesso l'uomo può trasformarsi da solo? certo, ha imparato ad agire sui geni e quindi sull'ereditarietà c'è questo l'uomo è un sacco di sagesse le découvreur fa sonne per noi dei mondi dei migliori